Eccoci, buonasera a tutti, buonasera in particolare a Cecilia Patti che oggi parla al nostro seminario del Cesim. Negli incontri precedenti abbiamo affrontato sostanzialmente le arti del Trivio, le tre arti che hanno a che fare con il linguaggio e oggi cominciamo col quadribbio. Visto che l'ora è tarda, io limito, come del resto faccio sempre, al stretto indispensabile le presentazioni. Quindi mi limito a dire che Cecilia Patti è docente di storia di filosofia medievale alla Università di Roma Torvergata, ha avuto un percorso di studi molto interessante, ha iniziato a Siena, poi a Toronto in Canada, poi a Firenze, ha avuto varie esperienze di ricerca in prestigiosi centri italiani e stranieri. È una specialista di alcuni autori che sono strettamente legati alle tematiche del quadribbio perché non sto a fare l'elenco di talora dei suoi tantissimi contributi, dei suoi libri, delle sue edizioni, ma ha scritto cose molto importanti su Grossa Testa e su Gerobacone e ha affrontato temi legati veramente alle principali arti del quadribbio, alla matematica e alla musica, con un contributo molto importante uscito di recente sulla musica e un altro che attendiamo da tempo per una collana che mi sta particolarmente a cuore come Cecilia Bensai. Oggi ci parla proprio del quadribbio e dell'evoluzione medievale della geometria. Grazie ancora per averci dato il nostro invito e a te la parola. Grazie a voi, naturalmente grazie a Luca Bianchi, Luigi Canti e Andrea Fiamma per avermi coinvolto in questo bel ciclo di seminari dedicati appunto alle arti liberali e dunque la prima cosa che direi è di condividere lo schermo in modo tale da potervi presentare alcune slide. ecco dovreste ora vedere e vorrei iniziare con la presentazione, non vedete, vediamo sempre il video, devo adesso collegarle, ecco qua, quindi adesso dovreste riuscire a vedere lo schermo con la presentazione. Dunque in questo incontro appunto ho pensato, visto che avete fino ad adesso parlato delle arti del trivio, di introdurre con questo seminario il quadribbio in generale, cioè che cosa sono queste quattro discipline matematiche, che cosa furono nel medioevo e poi dare un piccolo sguardo un po' più dettagliato alla geometria. Gli incontri successivi infatti vi porteranno ad analizzare in modo più specifico, a vedere in modo più specifico le altre discipline quadribiali, quindi iniziamo con la geometria e in un certo senso forse è un inizio che è anche lecito fare e vedremo come mai. Dunque la prima cosa che credo si debba dire è che appunto il quadribbio fa parte nel pensiero medievale, nella concezione delle scienze e delle arti che si ebbe nel medioevo, fa parte delle arti liberali. È costituito da quattro discipline, quattro discipline che all'interno delle quali si vengono studiati quattro diverse modalità di pensare matematicamente e queste discipline sono appunto l'aritmetica, la scienza dei numeri, la geometria che riguarda le figure e le grandezze, la musica che riguarda i suoni ma in modo più specifico le proporzioni e quindi è un'applicazione della matematica e l'astronomia che riguarda i movimenti planetari e la si considera come un'applicazione della geometria. Vedete in questa prima diapositiva la raffigurazione delle sette arti liberali e una specifica raffigurazione delle arti del quadrivio. Vedete nel primo degli esempi che ho considerato è tratto dall'Ortus Deliziarum di Herrade di Landsberg, una badessa molto importante coetanea di Degarda di Bingen, che ha lasciato un'opera dedicata alle arti che non ci è giunta se non attraverso riproduzioni e vedete come in questa raffigurazione delle discipline del quadrivio, le discipline sono iscritte nel contesto delle sette arti liberali presiedute appunto da filosofia come diciamo culmine e comprensione di questo itinerario di sapere tracciato dalle arti. Vedete poi un'altra raffigurazione molto più tarda degli inizi del 300 che sono i Regia Carmina, tratta da Regia Carmina di Convenevole da Prato, secondo la copia trasmessa in un manoscritto della British Library e vedete come qui invece le discipline del quadrivio appaiono diciamo sempre collegate con le arti del trivio, ma comunque separate dal contesto più ampio della filosofia e del modo in cui si relazionano complessivamente alla filosofia. E vedete anche una raffigurazione diciamo delle fanciulle che individuano le singole discipline del quadrivio che presentano determinate caratteristiche. Vedete la geometria raffigurata con questo grande triangolo al quale quasi si appoggia e vedete questa disciplina che guarda verso il basso, guarda verso la terra, ha un manto appunto marrone a indicare proprio il suo contatto con la misurazione della terra e delle dimensioni appunto del mondo naturale. Vedete l'aritmetica che non ha alcuno strumento ma le dita che articolano i numeri che vengono rappresentati attraverso lo stesso movimento delle dita. Poi vedete musica che ha il suo linguaggio rappresentato appunto da questi neumi che indicano lo specifico linguaggio col quale questa disciplina matematica si esprime almeno eh agli inizi del trecento era già forma pienamente direi formalizzato il linguaggio eh musicale eh la scrittura neumatica su partitura su appunto sulle linee ehm del pentagramma ancora era un teatrogramma e poi vedete astronomia con uno strumento di osservazione del cielo e che nello stesso tempo indica però la terra. l'ultima immagine che ho preso per indicare la relazione tra quadrivi e altri e arti liberali eh è una raffigurazione ancora più tarda eh del quattrocento che eh adesso si trova al prado di Madrid e qui vedete come ciascun'arte è mh individuata in un proprio eh in una propria posizione quasi isolata dalle altre ciascuna con i propri strumenti in particolare vedete la geometria con la squadra e il compasso e ciascuna individuata dal proprio fondatore. Quindi ci sono molti modi di vedere le discipline del quadrivio eh all'interno del medioevo e in particolare quello che vediamo nel corso del passare dei secoli è proprio un passaggio da una considerazione del quadrivio eh generale e legata alla ehm alla relazione che queste discipline matematiche hanno con la filosofia ha una considerazione sempre più autonoma e indipendente di ciascuna di queste discipline. Allora vorrei passare ehm a eh individuare mh nella tarda antichità come si formano le ehm le principali eh dottrine legate al quadrivio e la funzione che queste quattro discipline hanno nel contesto appunto delle arti liberali. eh il primo autore che consideriamo eh il primo autore che consideriamo eh sono Agostino e Marziano Capella sono eh coetanei eh e anche conterranei eh ambedue appartengono appunto alla eh all'Africa all'Africa romana, all'Africa settentrionale, alla alla zona di Cartagine appunto e eh in entrambi eh noi troviamo una ehm descrizione di quelle che sono le discipline quadriviali ancora il conio del termine non c'è lo vedremo tra poco arriverà con Boezio eh ma in entrambi troviamo una descrizione delle arti matematiche del quadriviali ehm ma è una descrizione quindi nonostante la la contemporaneità dei due autori eh completamente diversa e mi sembrava interessante eh mettere in relazione eh queste due visioni del quadrivio eh iniziamo con Agostino e in particolare con il De Ordine di Agostino eh dove nel secondo libro eh dove nel secondo libro appunto viene narrato eh il percorso che compie la ragione per eh arrivare alla piena consapevolezza di se stessa e per innalzarsi eh fino appunto alla comprensione eh diciamo eh a una sorta di eh contemplazione eh della bellezza. ehm la l'ascesa della ragione che è tracciata nel De Ordine eh passa eh attraverso eh la lo strumento eh lo strumento primo della ragione e cioè la parola. La eh ragione riconosce di potersi esprimere attraverso la parola e quindi la il il suo percorso di conoscenza di se stessa e di autoconsapevolezza inizia appunto dalle arti dalle arti del trivio dalle arti dalle arti sin discendo e eh progressivamente eh giunge appunto alla eh alle discipline del numero. Come avviene questo passaggio? Eh avviene perché ehm come ci eh dice Agostino e eh forse eh un breve eh una brevissima lettura eh ci aiuta. ehm una volta appunto che la che la ragione è riuscita a dominare la parola ehm da questo momento in poi dice Agostino eh la ragione ha voluto elevarsi alla felicissima contemplazione delle realtà divine. eh ma per non cadere dall'alto cercò dei gradini e si costruì la stessa via attraverso ciò che possedeva e si costruì un ordine. Desiderava infatti una bellezza che poteva vedere restando sola e semplice senza questi occhi. Cioè la ragione cerca di cogliere la bellezza ma una bellezza che potesse superare eh la bellezza che si coglie con la vista e questo eh questa bellezza infatti viene impedita la 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 contemplazione di questa bellezza viene impedita dai sensi. e quindi eh poiché i sensi eh ritraevano la verità con un baccano inopportuno inopportuno per prima cosa iniziò dall'udito perché appunto eh nell'udito attraverso l'udito eh riusciva ad ascoltare la parola. e nella parola appunto che già conosceva attraverso la grammatica la dialettica e la retorica eh la ragione si accorse che c'era una differenza tra il suono e ciò di cui il suono era segno. Dunque eh la ragione studia il suono e attraverso il suono comprende il ritmo e comprende il numero che è all'interno del ritmo. La musica serve quindi è la disciplina che serve quindi a consentire eh alla ragione di iniziare a staccarsi dalle cose terrene e a compiere appunto il suo viaggio eh nel numero. ehm da questo gradino eh ragione si rende conto che i numeri regnano e sono in tutte le cose e dunque eh scoprì che i numeri formano e stanno eh in tutte le forme e eh quindi la musica inizia a trovare e quindi la ragione ehm inizia a comprendere la bellezza, la bellezza che è nelle forme, nelle figure delle cose e poi nelle misure di queste figure e alla fine nei numeri che sono dentro queste misure. il passaggio quindi della eh ragione verso la consapevolezza di sé attraverso il numero eh dopo la musica che segna lo stacco tra le discipline della parola e quelle eh del numero e passa attraverso la geometria, scienza delle figure, poi l'astronomia e quindi la contemplazione dei movimenti celesti e dei tempi e infine a proda all'aritmetica, scienza del numero per sé stesso. E eh questo cammino porta ragione addirittura a pensare di essere essa stessa numero. una visione eh una visione completamente diversa eh l'abbiamo invece il Marziano Capella. Marziano Capella eh il cui eh le cui nozze di filologia e Mercurio eh furono appunto un'opera di eh grandissima eh di grandissima eh di grandissima influenza nel medioevo in particolare nell'alto medioevo eh e eh l'impostazione eh della della ricostruzione delle arti eh che dà Marziano Capella eh è speculare direi rispetto a quella di Agostino. Abbiamo anche qui un processo di ascensione ma questa volta eh chi ascende è la eh è filologia cioè appunto la sposa eh che viene ehm data in sposa al dio Mercurio, filologia che rappresenta l'anima o che che simboleggia l'anima o la o la conoscenza ma in una prospettiva pagana non in una prospettiva cristiana cioè nella prospettiva delle divinità astrali romane che eh Marziano Capella appunto eh di cui Marziano Capella cerca di essere un un difensore di fronte a un mondo appunto che sta cambiando volto che si sta spostando eh verso il pienamente verso il cristianesimo e Marziano si sente come appunto un 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 difensore eh di quelli che erano i valori eh i valori eh i valori eh insomma scientifici non solo eh non solo culturali eh e religiosi appunto del paganesimo romano. Eh le discipline quindi nella prospettiva di Marziano Capella sono ehm un dono divino quindi non il processo di autoconsapevolezza che abbiamo visto in Agostino ma proprio il dono divino ma proprio il dono divino che si scandisce in una progressione eh che parte dalle arti della parola anche qui per arrivare appunto a quelle che sono le discipline dell'ascesa di filologia verso eh la sua divinizzazione ehm nel 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 denupsis appunto in questa opera di capella eh filologia deve rigettare tutte le sue conoscenze terrene prima di poter iniziare il percorso di apprendimento delle discipline discipline che si presentano a lei eh raffigurate attraverso appunto fanciulle che raccontano eh che raccontano la propria arte e quindi eh filologia progressivamente apprende il vero percorso di conoscenza che la porterà eh agli dèi che la porterà a congiungersi con Mercurio. Mercurio appunto quel dio alato le cui ali come eh ci dice Marziano eh superano eh gli stessi cieli divini ma scendono anche nelle profondità della terra. quindi segno che l'anima umana e la conoscenza si congiunge a un dio che le fa esplorare tutto l'universo dalle sommità, dalle vette delle altezze celesti fino alle profondità della terra. In queste discipline dell'ascesa appunto ehm la ehm il percorso di filologia parte appunto dalla geometria, la misurazione della terra. eh per poi passare al numero che misura tutte le cose quindi all'aritmetica poi alla misura dei moti astrali e infine alla misura dell'ordine stesso del mondo che è la musica ma che Marziano chiama armonia quindi non propriamente eh musica terrena ma soprattutto eh la musica cosmica, la musica dell'anima del mondo. quindi la prospettiva è chiaramente neoplatonica, timaica e eh armonia è proprio quella eh scienza che offre la possibilità di conoscere le cause dei movimenti, la struttura eh internamente proporzionale e armonica appunto di tutto eh di tutto l'universo. Eh mi vorrei soffermare molto brevemente su eh geometria anche perché appunto è la disciplina su cui puntiamo un po' di più l'attenzione eh stasera eh perché ehm eh perché per eh per eh per Marziano geometria è soprattutto è quella tradizione di pensiero geometrico che viene dal mondo romano e che eh è fondata sull'agrimensura eh sulla misurazione appunto geometrica eh delle distanze terrene. ed è interessante vedere come viene ritratta questa fanciulla. Ecco che vedo appunto una donna nobile che reca nella destra un bastoncino per misurare le ombre eh e nell'altra una sfera solida per misurare appunto eh il cosmo in generale. e quindi le distanze non solo sulla terra e geografiche ma anche e cosmiche eh è avvolta da un peplo in cui si vedevano le grandezze e i percorsi degli astri e le misure dei circoli e ehm e nello stesso peplo rifulgeva eh una sorta di aria primaverile e che ehm veniva eh e questo peplo era anche preparato per l'uso della sua la sua sorella astronomia. Eh il resto della figura di geometria era cosparso con varietà di numeri, aghi di quadranti solari, forme di intervalli, pesi e misure, brillava variegato con una diversità di colori. questa camminatrice instancabile, geometria raffigurata appunto come una stancabile ehm camminatrice, indossava calzari adatti a vagare per la terra e per di più logori per aver percorso interamente il mondo. ehm fece il suo ingresso nel senato degli dèi e anche se immediatamente avrebbe potuto dire quanti stadi avesse percorso dalla terra al cero, quante urne, perfino quante dita, eccetera, impressionata dalla maestà di Giove eh si affrettò verso la tavoletta dell'abaco che era stato scoperto e iniziò appunto la sua discussione. ehm e ehm geometria quindi presenta eh tutti gli aspetti della antica agrimensura romana e poi passa a aspetti diciamo di geometria, fondamenti di geometria e euclidea eh e eh in questo passaggio del suo discorso eh si appoggia alla sorella aritmetica. ehm si appoggia alla sorella aritmetica e vorrei però sottolineare l'ultima annotazione del del discorso di eh geometria eh rispetto alla quale appunto ehm geometria ha dato le indicazioni generali diciamo così degli degli elementi primi della geometria che poi sarà anche geometria euclidea, il punto, la linea, la superficie, eccetera. e ehm e poi si eh vuole iniziare eh a parlare eh del primo teorema di euclide e quindi tracciando una linea retta disse in che modo può essere costruito su un dato segmento retto un triangolo equilatero? detto questo siccome numerosi filosofi che stavano lì in piedi da ogni parte si resero conto che voleva costruire il primo teorema di euclide subito presero ad acclamare euclide e ad applaudirlo e eh degli elogi a lui rivolti si rallegrò moltissimo anche geometria e anche geometria stessa riconoscendo che era lei in realtà a essere esaltata e innalzata per mezzo della gloria che veniva tributata a euclide e rapidamente allora strappò di mano eh 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 al a euclide i suoi libri e offrendoli a Giove li suggerì loro come manuali e suggerì a Giove e a eh il senato dei celesti suggerì di leggere questi libri come manuali di insegnamento della rimanente dottrina scientifica della geometria. Dunque ehm vediamo che ehm Marziano Capella si fa portatore della tradizione geometrica eh romana e lascia per così dire ai posteri eh una ehm spiegazione più dettagliata della geometria euclidea eh che lui si limita appunto appunto a appunto a a menzionare. Vediamo invece eh il quadrivio rispetto appunto al a chi fu eh l'inventore dello stesso termine quadrivio e cioè Severino Boezio eh siamo un secolo dopo eh Capella e mh appunto eh Agostino e ehm Boezio ci parla di quadrivio sia nei due ehm nelle due ehm nelle due opere che dedica a due delle discipline quadriviali e cioè l'istituzione aritmetica e l'istituzione di musica. Ehm. Nella nello spiegare eh che cosa sia il quadrivio ehm Boezio rende manifesto il fatto che si appoggia a una tradizione eh filosofica eh che eh ha immediatamente un nome come come referente cioè Pitagora alla tradizione pitagorica. Ehm proviamo a leggere l'inizio di questo testo che vedete anche nella slide. Eh tutti gli autori antichi che sulle orme di Pitagora eccelsero per la pura razionalità della mente sono concordi nell'asserire che nessuno può giungere alla vetta della perfezione nelle discipline filosofiche se non se la nobiltà di questa saggezza di questo eh appunto percorso eh non è perseguita secondo una sorta di quadruplice via quodam quasi quadruvio. quindi è necessario compiere un quadruplice percorso e ancora eh sottolinea Boezio questa quadruplice via è quella che deve essere percorsa da coloro che un animo eccelso porta dai sensi che sono creati con noi all'intelligenza delle cose più certe. Il percorso del quadrivio quindi parte dai sensi e arriva alla certezza ehm e diciamo conduce alle cose che sono più certe. Qui però non si tratta né di un percorso ascensionale dell'anima diciamo della razionalità come era per Agostino e nemmeno di un percorso di divinizzazione delle conoscenze come eh era per Marziano Capella. Si tratta invece di un percorso che ehm che la ragione umana eh compie indagando oggetti specifici che si trovano nel mondo naturale diciamo e che si afferrano attraverso i sensi in particolare la vista e l'udito ma che però si presentano con caratteristiche che esulano che fanno sì che che questi stessi oggetti chiamiamoli così ehm ehm Boezio li chiamerà eh essenze eh non siano eh considerati come eh inseriti nella realtà come parte della realtà mutevole delle cose ma vengono considerati come separati eh riferendoci sempre a questa all'isolamento diciamo così di questi oggetti possiamo considerare l'istituzione musica appunto di nuovo nel nome di Pitagora eh eh primo fra tutti Pitagora chiamò la ricerca di sapienza filosofia che riteneva essere conoscenza disciplinare di ciò che si dice essere in modo proprio e vero cioè di ciò che non subisce cambiamento e reputava che questo eh essere in modo proprio fossero forme grandezze qualità rapporti e tutte quelle cose che pensate per se stesse sono immutabili ma che mutano ehm congiunte ai corpi ecco la quantità secondo Pitagora è appunto una di queste forme essenze perché perché la si può concepire come se fosse separata dai sensi la quantità è continua o discreta e quindi cioè è qual quantità intesa come numero multitudine multitudo oppure quantità intesa come grandezza quindi quantità continua eh queste due questa partizione della quantità è appunto quella partizione che consente a ehm Boezio eh di organizzare le discipline del quadridio appunto in quattro discipline distinte che hanno quattro diversi oggetti di indagine e questi oggetti di indagine sono tutti però ehm aspetti della quantità ehm l'aritmetica considera la quantità in se stessa la musica considera la quantità come rapporto quindi la quantità intesa nel rapporto di cose diverse e la partizione in musica del mondo musica umana cioè eh nei rapporti del dell'anima col corpo nelle parti dell'anima e nelle parti del corpo e poi la musica che si si ritrova negli strumenti cioè la voce umana e tutte e tutti gli strumenti sono la 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 prima partizione eh di eh appunto eh nella quale eh Boezio suddivide la musica ehm invece per quanto riguarda la quantità continua noi abbiamo la geometria che appunto la che riguarda la grandezza immobile la grandezza che eh non ha ehm appunto che non ha movimento le forme eh diciamo della grandezza e astronomia invece che è la grandezza in movimento ehm questa struttura e questa suddivisione delle scienze abbiamo visto ehm Boezio le rimanda direttamente a Pitagora e la fonte principale di Boezio è eh Nicomaco Nicomaco di Geras appunto un neoplatonico al quale Boezio si appoggia per eh la l'istituzione aritmetica e in certa parte anche per il de istituzione musica quindi abbiamo un contesto eh filosofico specifico eh quello del neopitagorismo all'interno del quale si colloca la eh l'organizzazione del quadrivio in Boezio e quindi nei tre autori che abbiamo esaminato di cui abbiamo esaminato la concezione del quadrivio vediamo appunto che ci sono eh tre diversi modi di intendere le stesse discipline eh questi tre diversi modi portano anche a una diversa collocazione di queste discipline matematiche con Agostino abbiamo visto la musica fa da passaggio tra le arti della parola e le arti appunto le arti o discipline eh per meglio dire del numero e abbiamo visto che l'aritmetica con si consiste in questa scienza del numero intellettuale della ragione che riconosce se stessa essere numero in Marziano Capella abbiamo visto che invece lo stacco dalla terra al cielo è dato dalla geometria l'aritmetica è quella disciplina non ne ho parlato ma è molto interessante anche come raffigura Marziano Capella l'aritmetica con le dita sempre in movimento con i capelli che si eh che si hanno luci di mille colori raggi di mille colori che però lei riesce a riportare in perfetta unità quindi è una disciplina assolutamente versatile perché perché con i numeri si fa tutto si misura ogni cosa l'astronomia come movimento dei cieli e anche qui eh l'immagine che ci dà Capella è interessante perché eh astronomia eh dice agli dei celesti io vi racconto i vostri stessi cammini quindi sono proprio le divinità astrali di cui parla astronomia e poi abbiamo visto la musica che invece l'armonia di questi corpi cioè le ragioni la ragione la causa appunto della perfezione armonia dell'universo e in Boezio abbiamo visto proprio adesso la struttura è diversa l'ordine è nuovamente eh eh diverso rispetto agli altri rispetto ad Agostino e a Marziano perché appunto la base filosofica su cui Boezio eh organizza le discipline del quadrivio è appunto quella Nicomachea legata all'oggetto di studio eh la quantità. Bene in questa ehm visione eh diciamo questi 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 tre diversi modi di pensare di inquadrare le discipline del quadrivio nel corso del medioevo danno luogo a una visione che possiamo dire in qualche modo unica o che cerca di assommare di mettere insieme eh queste eh queste diversi approcci e eh ovviamente si potevano scegliere molti esempi eh io mi sono limitata a un solo esempio e poi passiamo a parlare un po' più eh nel dettaglio di geometria e cioè ehm ha un testo molto famoso molto conosciuto della prima metà del dodicesimo secolo il da Scalicon di Ugo di San Vittore. Ehm mi interessava parlare di questo eh soprattutto parlare brevemente di questo perché ehm nel eh ho preso un un breve testo eh in cui eh Ugo introduce appunto le le discipline del quadrivio ehm mi interessava perché ehm secondo me Ugo ci fa vedere come eh queste discipline siano strettamente legate al fare e a un fare, a un agire, al misurare eh che è sempre aiutato eh da strumenti specifici. Quindi eh dice eh Ugo che appunto nella sua giovinezza quando era ancora fanciullo ehm utilizzava eh i sassolini per numerare e poi che tracciava a figure geometriche appunto sulle 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 tavolette e in terra in modo tale da poter vedere con gli occhi e attraverso l'ausilio appunto eh degli strumenti eh poter vedere le raffigurazioni delle cose e come eh quali erano i rapporti fra i vari tipi di triangoli come dice qui nel eh nel 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 testo eh e poi appunto l'osservazione eh delle stelle la notte quindi eh diciamo il quadrivio pur essendo l'insieme delle discipline matematiche eh è un insieme che tiene sempre presente eh l'aspetto della della pratica, del fare, del misurare appunto attraverso gli strumenti ma anche grazie all'ausilio della vista e dell'udito per quanto riguarda la musica e ehm e anche nella musica non solo ehm ci dice eh Ugo ehm ho provato ho cercato di ascoltare di vedere le consonanze dei suoni utilizzando appunto il monocordo eccetera ma ho anche provato nel fare questo eh la dolcezza che dà la bellezza quindi la dolcezza che dà l'ascolto del suono quindi l'aspetto appunto quell'aspetto di bellezza che abbiamo visto eh essere proprio la caratteristica principale che in Agostino spinge la ragione a guardare appunto nel mondo e a ricercare appunto il numero nel mondo per cogliere la vera bellezza. Tutte queste cose ci dice Ugo eh forse erano fueri lì forse erano cose da bambino tuttavia non erano inutili cioè sono appunto il fondamento eh delle conoscenze della conoscenza del mondo e mh volevo solo un momento soffermarmi appunto su questo aspetto che la perugo eh ma anche per altri eh autori che si collocano soprattutto nel dodicesimo secolo che sappiamo è un secolo di rinascita è un secolo molto importante che eh affaccia eh che che rende disponibili agli agli autori latini testi che arrivano dal mondo arabo eh dal mondo greco e nell'ambito delle scienze quindi eh si si sta compiendo proprio nell'età di Ugo una una profonda rivoluzione dei saperi accrescimento anche ampio accrescimento dei saperi. Bene per Ugo la matematica è certamente una eh un insieme di conoscenze dottrinali ma non quansine immaginazione cioè non è mai priva di immaginazione e secondo me questo aspetto è davvero molto interessante nel didascali con di Ugo. Che cos'è l'immaginazione? L'immaginazione è la memoria di ciò che abbiamo percepito con i sensi e ciò che abbiamo percepito con i sensi diviene ciò che possiamo comprendere con l'intelletto, il fondamento di ciò che possiamo comprendere con l'intelletto. Quindi l'aritmetica per esempio certamente è la scienza del numero, la scienza astratta del numero ma non c'è questa scienza astratta se prima una la forma visibile del numero non si è impressa nell'animo attraverso appunto eh il numerare con i sassolini, con i calcoli. Poi la geometria che è quella certamente la scienza della grandezza eh immobile come in Boezio ma è anche la misura della terra suddivisa nelle sue parti di planimetria, altimetria e cosmimetria cioè la misurazione di tutto il cosmo. La musica, scienza della moltitudo ad Alliud è però quella scienza che riguarda i rapporti fra tutte le cose mondana, umana e instrumentalis come abbiamo visto anche in Boezio ma la musica umana qui eh non è tanto quella dei rapporti tra l'anima e il corpo e delle parti dell'anima e delle parti del corpo ma la musica umana è per Ugo la musica vocale eh il suono della voce umana che per Boezio invece faceva parte della strumentale e infine eh l'astronomia con questa annotazione che l'astronomia consente di conoscere appunto eh le cose del mondo ma eh di misurare eh tutte le distanze, le altezze eccetera ma può portare anche alla astrologia e qui però si apre un capitolo eh che tralascio completamente. Allora all'interno di questo ehm spazio e forse me ne sono presa un po' troppo anch'io di spazio e tempo per parlarvi di quadrivio eh ma eh all'interno di questo vorrei per ritagliare almeno eh l'ultima parte di questo seminario un piccolo spazio per la geometria eh specifico per la geometria. Eh la geometria è una disciplina molto varia. Nel Medioevo ehm viene esplorata, viene studiata secondo prospettive molto diverse ed è difficile cercare di fare una sintesi di tutte queste prospettive. Per cercare di fare una sintesi che sia diciamo almeno visiva ehm ho preso un disegno di Leonardo. Forse risulterà fuori dall'ambito temporale, anzi sicuramente fuori dall'ambito temporale medievale. Eh però è utile credo per far capire eh che cosa poteva essere la geometria, la molteplicità di applicazioni della geometria. Questo è un disegno di una pompa, quindi non ha una eh un significato in sé eh geometrico. Però vedete come questo disegno è circondato da una serie di raffigurazioni geometriche eh di un cubo e poi di una specifica parte della geometria di cui parleremo brevemente e cioè quella proiettiva perché eh vediamo come eh un in questo caso addirittura un globo eh viene eh raffigurante il mondo viene rappresentato credo o forse è più probabile sia uno specchio viene rappresentato eh su una superficie piana. Anche questo è uno sviluppo eh di applicazioni geometriche che eh nel che nel corso in particolare nel tredicesimo secolo eh eh inizia eh a essere eh lo vedremo eh essere praticato. Ehm tra l'altro eh in basso vediamo anche delle raffigurazioni geometriche ornamentali. Quindi la geometria eh ha una molteplicità di eh applicazioni e anche di ehm metodi attraverso i quali questa scienza eh poteva essere indagata e studiata. Eh vedremo ehm brevemente ovvio ehm fra le tipologie principali della geometria la geometria pratica eh la geometria appunto euclidea che possiamo considerare teorica o definire teorica rispetto alla alla geometria pratica poi eh la geometria prospettica o l'ottica geometrica e poi la geometria proiettiva cioè eh la raffigurazione appunto eh su uno spazio piano di ehm di superficie e di spazi. Le applicazioni poi della geometria naturalmente sono molteplici la misura della terra, la misura di oggetti, del cosmo, ma anche l'elaborazione di strumenti di misura a bisogno di geometria, l'elaborazione di figure astratte ehm il disegno in generale e eh l'architettura e quindi le arti hanno tutti bisogno della della geometria e poi eh la misurazione della variabilità di qualità, di tempi, anche questa è un'applicazione eh geometrica che vedremo alla quale accenneremo brevemente. Dunque ehm ecco la geometria pratica eh la geometria pratica è quella che eh abbiamo visto ehm eh discutere eh da geometria eh eh nella nella nelle nozze di eh di Marziano Capella. ehm è un contesto di studi geometrici che abbraccia eh una molteplicità di eh ambiti eh da quello diciamo dell'agrimenzura alla topologia quindi alla definizione dello spazio, alla geografia, eh all'architettura. ehm è una scienza eh che eh affonda le sue radici naturalmente nel nel mondo nel mondo greco ma anche come abbiamo visto nel nel mondo romano eh e ehm vorrei solamente segnalare eh uno sviluppo particolare di questa tradizione di pensiero nelle opere di eh Gerberto. Gerberto eh Gerberto da Riac eh Papa Silvestro II appunto che eh nel all'inizio del dell'undicesimo secolo insomma tra la tra la fine del decimo e l'inizio dell'undicesimo ehm dedica uno studio ehm direi eccezionale per i suoi tempi eh al contesto delle discipline quadriviali e in particolare alla geometria. eh a lui sono eh collegati eh due scritti eh in particolare la geometria Gerberti che è appunto eh un testo ehm che eh dà una panoramica complessiva di questa pratica geometrica e una serie di ehm rielaborazioni la geometria in certi autoris appunto che eh eh si collo eh si 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 mette in relazione con la con la geometria di Gerberto e costituisce un corpus eh di scritti ehm a questa ehm filone della geometria pratica si collega tra l'altro anche una eh una pratica eh che eh che è eh attribuita ma con incertezza allo stesso Ugo di San Vittore e poi eh se vogliamo nel 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 tredicesimo secolo si collega anche la la pratica geometrie di Leonardo Fibonacci e eh eh questo uso pratico della geometria ehm torna anche eh e continua anche una tradizione direi ininterrotta forse non così ehm così ehm evidente come ehm sarà per la geometria euclidea ma comunque eh continua una tradizione ininterrotta anche nel quindicesimo secolo uno di questi eh esempi può essere possono essere per esempio i ludi matematici dell'Alberti ehm la pratica della geometria ecco vorrei illustrarvela eh attraverso ehm attraverso due ehm esempi se riesco ecco ehm scusate ecco sono qua eh attraverso ehm due esempi eh uno è ehm tratto appunto da una dalla geometria in certi autoris e vedete qua un misuratore appunto che attraverso un sistema pratico cioè il tracciare appunto un metodo per cui vengono utilizzati i fili eh e eh viene definita l'altezza una determinata altezza di cui non si conosce la misura utilizzando eh dei fili delle corde e eh e appunto riuscendo in questo modo a poter calcolare misure che sono ignote ehm questo tipo di geometria ehm è una geometria che adotta eh il numero per la misura ecco questo volevo in particolare sottolineare ehm come vedete qui nell'immagine ehm viene utilizzato un filum di cinque piedi eh uno di quattro piedi e naturalmente l'altezza che verrà misurata e corrisponderà a tre piedi ehm questo ehm filone eh della geometria eh impiega soprattutto numeri e vediamo qui eh qui eh qui forse non lo vediamo in modo specifico la difficoltà di utilizzare i numeri romani per poter indicare le misure eh lineari ma eh nell'opera di Gerberto molto spazio sarà dato appunto allo studio delle frazioni numeriche perché i problemi geometrici per essere affrontati e quindi per riuscire a eh a dare la giusta misura a misure conoscendone e conoscendone alcune e in particolare questo lo troviamo nello studio dei 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 triangoli soprattutto ehm c'è bisogno eh di utilizzare sistemi molto complessi eh per eh definire le frazioni numeriche con le eh con i numeri romani questo è effettivamente un un grosso eh è un grosso problema ehm la ehm l'altro aspetto che vi vorrei ehm che vorrei cercare di 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 sottolineare rispetto alla geometria pratica è la versatilità eh del suo impiego ehm i due le due raffigurazioni che vedete in alto sono tratte eh dal 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 quaderno degli appunti di un architetto eh che visse nella prima metà del tredicesimo del tredicesimo secolo e il codice è un codice insomma molto famoso ricchissimo di eh eh di disegni geometrici e ehm ho scelto eh due eh immagini eh due raffigurazioni eh da una parte vedete vedete gli strumenti non sono necessariamente strumenti eh che riguardano la misurazione geometrica ma sono quegli strumenti che servono all'architettura la quale ha bisogno di misurazione geometrica eh vedete anche l'arco che serve per lanciare appunto eh gli gli spaghi per poter arrivare a tracciare i fili che attraverso i quali misurare le altezze e poi vari strumenti appunto che servono a definire geometricamente lo spazio su cui operare e anche lo spazio su cui costruire e poi l'altro aspetto eh dell'impiego pratico della geometria eh il disegno attraverso le forme geometriche che si riscontrano nella natura ehm è possibile aiutarsi a a raffigurare eh diciamo in modo quasi quasi naturalistico eh volti animali eh ma anche eh a raffigurare appunto edifici strutture insomma potenzialmente tutto eh la geometria quindi è è anche uno strumento un ausilio eh alla alla pittura all'architettura eccetera ehm passando alla geometria euclidea eh veramente molto eh al volo eh ovviamente eh la geometria euclidea è la geometria diciamo che noi conosciamo ehm non 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 sto a a sottolineare eh l'importanza ovviamente che tutti di cui tutti siamo ben consci delle degli elementi di euclide e della storia di questo testo fondamentale appunto che ha che che diciamo che dà il nome stesso alla disciplina che noi conosciamo ehm mi soffermo solamente sul 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 fatto che proprio nel medioevo viene ehm scoperto un modo di mh arrivare alla misurazione delle grandezze attraverso dimostrazione. La geometria di euclide offre eh la possibilità di eh rendere sistematica in qualche modo e definita attraverso appunto dimostrazioni ehm la una metodica eh che consente di eh arrivare a misurare eh forme di diverso tipo. Gli strumenti della geometria euclidea sono la riga e il compasso e vedete come eh anche nel 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 codice che ho scelto per per dare un'idea della geometria euclidea gli elementi di euclide nella traduzione di Adelardo di Bath di Bath eh un un manoscritto eh della British Library di Londra. Ehm vedete che eh appunto eh la squadra e il compasso sono appunto eh gli strumenti eh della geometria come del resto troviamo anche raffigurato nella notissima eh raffigurazione di euclide con le sembianze di Bramante eh nella scuola di Atene di Raffaello. La posizione eh di euclide e di geometria vedete esattamente la stessa eh si utilizza il compasso in questo caso per tracciare figure. E l'altro aspetto della geometria euclidea che vale la pena sottolineare è quello del che perché è importante e segna uno stacco con la le prime forme di ehm i primi trattati insomma di geometria pratica ovvero eh l'uso delle lettere per individuare per indicare le misure di lunghezza. Eh l'uso delle lettere ehm offre la possibilità di ehm di fare diciamo ehm di generalizzare quelli che erano problemi di misura particolare. Eh prima abbiamo visto eh il misuratore che attribuiva eh che cercava una misura sconosciuta dell'altezza utilizzando misure note espresse attraverso numeri. La possibilità invece di esprimere le ehm le grandezze eh la grandezza lineare per esempio la grandezza di segmenti ehm attraverso lettere consente di generalizzare quei problemi eh che ehm non implicano più eh la soluzione di un singolo caso ma che vengono a ehm a essere estesi a tutti i casi. Quindi lo stesso teorema di Pitagora per esempio che veniva eh prima ehm studiato attraverso eh l'applicazione dei numeri e in particolare eh il triangolo con lati tre, quattro e cinque eh adesso invece viene esaminato attraverso le lunghezze A, B e C laddove quelle lunghezze devono stare in una determinata relazione e quindi tutte le figure nelle quali quelle lunghezze stanno nella medesima relazione si risolvono attraverso le stesse metodiche. Quindi diciamo che il calcolo in qualche modo algebrico insomma entra nella ehm nella 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 nel modo di pensare la geometria e di rappresentarla. Ehm non mi soffermo eh sul sull'impiego poi che eh viene a a essere ehm diciamo stimolato dalla da una conoscenza sempre più approfondita della geometria euclidea ma mh è interessante almeno accennare al fatto che ehm la 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 geometria euclidea viene a risolvere problemi di fisica o perlomeno a risolverli eh da un punto di vista astratto eh in particolare nel quattordicesimo secolo e ho messo come autori di riferimento Bradwardin e Nicola Oresme ehm in particolare in Oresme nelle questioni sulla geometria di euclidea e poi nel suo trattato sulle configurazioni delle qualità e dei movimenti ehm costruzioni geometriche eh vengono utilizzate per l'analisi di variazioni qualitative. Variazioni qualitative per esempio intenzione di determinate qualità come il calore eh eccetera vengono esaminate attraverso appunto sistemi che attuali che che utilizzano ehm che utilizzano appunto eh fondamenti diciamo della della geometria euclidea. un altro aspetto è quello invece della geometria ehm e dei suoi rapporti con la perspettiva o l'ottica geometrica. Eh qui eh anche qui il discorso sarebbe ovviamente ampio e lo riduco eh a una sintesi giusto per dare un'idea di questa particolare applicazione importantissima eh della geometria importantissima nel mondo medievale e poi eh naturalmente anche eh nei nei secoli successivi nel rinascimento. Ehm sono gli stessi euclide e tolomeo che eh studiano eh l'ottica sulla base su base geometrica e eh la loro loro studio appunto della della visione su base geometrica è dato dall'idea che ehm che ehm che l'occhio ehm emanasse raggi visivi e quindi i raggi visivi andando a colpire eh gli oggetti ehm riuscivano a a poter essere descritti in maniera geometrica attraverso quello che è il cono visuale, il cono visivo. Ehm quindi la la geometria euclidea fa da base appunto per lo sviluppo geometrico della scienza della visione. Ehm per quanto riguarda il modo in cui i medievali conobbero questo questo aspetto di applicazione della geometria ehm certamente anche qui la trasmissione araba della eh dell'ottica di euclide e di tolomeo eh e poi trasmessa di nuovo in latino costituisce appunto la la base eh per anche per la conoscenza dell'ottica geometrica nel mondo latino eh ma eh in particolare questa disciplina eh nel mondo latino, nell'occidente latino ehm subisce un cambiamento eh molto interessante perché al momento in cui entra l'ottica di Alasen, Alasen è eh un un importante scienziato il cui eh che ha scritto moltissimo naturalmente non solo di geometria ma il suo la sua opera, il suo capolavoro ehm in ambito ehm di geometria ottica è il De Aspectibus, il Kitab al Manazir che viene tradotto in latino con il titolo De Aspectibus. Ecco l'ottica di Alasen è veramente rivoluzionaria nel senso che eh invece di pensare eh il raggio visivo come qualcosa che parte dall'occhio e appunto arriva all'oggetto pensa eh la le linee ehm luminose come eh in direzione contraria cioè che partendo da ogni singolo punto di un oggetto arrivano all'occhio quindi la visione è per intromissione di queste eh linee luminose. Questa trasformazione, questo rovesciamento diciamo dell'ottica geometrica è importante perché consente ad Alasen e quindi di conseguenza a quegli autori che eh nel medioevo conobbero per primi eh il il De Aspectibus di Alasen minimissima parte Roberto Grossatesta ma poi soprattutto Ruggero Bacone, Giovanni Peccam e Vitelo ehm per questi autori per questi autori la la scienza della visione sulla scia di Alasen si si configura proprio come una disciplina della conoscenza. Il mondo viene conosciuto in maniera propria attraverso le forme che arrivano all'occhio per via eh lineare eh attraverso appunto eh le 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 linee luminose che da ciascun punto eh toccano l'occhio e ricostruiscono all'interno dell'occhio l'immagine di ciò che è veduto. Eh la le 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 applicazioni dell'ottica geometrica vanno quindi dal campo della scienza della visione e della stessa fisiologia anche dell'occhio ai campi più disparati perché attraverso queste leggi particolari geometriche dell'ottica viene dato un grande impulso allo studio dei cieli, ai fenomeni per esempio di ehm distorsione nella vista eh delle delle stelle e quindi eh la parallasse come e quindi la diciamo la 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 necessità di dover pensare alla correzione di ciò che vediamo proprio dovuta alla distorzione del modo in cui la luce arriva eh da corpi celesti lontani. Eh ma eh insieme a questo anche gli studi di eh catottrica eh e di diottrica cioè gli studi appunto che riguardano i fenomeni di riflessione e rifrazione della luce ebbero un grandissimo impulso e ehm lo studio delle ombre insomma eh una varietà di applicazioni eh che eh appunto questa scienza eh consente di ehm di poter mettere in atto. Eh qui come rappresentazione in qualche modo dell'ottica geometrica eh ho voluto eh dare una una semplicemente una l'immagine del frontespizio della perspectiva di Vitelo che fu stampata a Norimberga al mila cinquecentotrentacinque e vedete qui le tre forme appunto della dell'ottica geometrica cioè la visione diretta il raggio luminoso la visione rifratta eh che dal grazie alla rifrazione di raggi la generazione appunto di calore del fuoco gli gli specchi ustori insomma eh la rifrazione vedete anche qui nell'immagine eh del del dell'uomo con le con i piedi nell'acqua che risultano distorti eh e poi la riflessione la scienza appunto la catottrica la riflessione nello specchio. Bene eh direi che eh a questo punto eh ci possiamo eh fermare su queste brevi eh diciamo ingressi nelle varie tipologie di geometria che si sviluppano e che eh si eh che 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 formano tradizioni di studi nel mondo medievale e vorrei solo accennare a un a un importante cambiamento ormai non siamo più nel medioevo ma eh nel diciamo nell'età moderna o o immediatamente premoderna ehm e eh dove nella quale si verifica un un significativo passaggio. La geometria grazie anche agli sviluppi che la geometria stessa ebbe nel mondo medievale eh comincia a essere pensata non più come geometria della grandezza della quantità continua ma come geometria dello spazio. Quando noi pensiamo alla geometria euclidea eh non pensiamo alla in realtà alla geometria euclidea che conobbero i medievali. Perché? Perché nel nostro nella nostra stratificazione culturale ormai è implicito ed è un dato assodato che la geometria si occupa di figure spaziali cioè di figure che stanno in uno spazio ehm che noi pensiamo eh come tridimensionale e potenzialmente eh infinito. Eh sono quindi delimitazioni dello spazio tridimensionale eh mentre eh nel mondo antico e nel mondo medievale la geometria è non è geometria dello spazio è geometria appunto delle grandezze perché la nozione di spazio tridimensionale non c'era. Eh fu ehm Francesco Patrizzi e vorrei qui non ho citato nessuno studio ma in questo caso mi fa piacere eh ricordare uno studio recente di Vincenzo De Risi che è stato dedicato proprio a Francesco Patrizzi e alla sua nuova geometria. La nuova geometria di Francesco Patrizzi è quella appunto che eh pensa le forme geometriche come forme spaziali. Le matematiche tutte dice Patrizzi e principali e subalterne tutti gli aspetti delle matematiche né si astraggono dalle cose naturali né sono nella fantasia eh e appunto non sono nella mente nell'intelletto ma il loro generale soggetto è appunto lo spazio e lo spazio non è altro che tridimensionalità. Questa forma questo modo per noi così naturale di eh pensare eh le figure piane e solide lineari della geometria eh in realtà eh non non arriva al momento in cui arriva Euclide ma successivamente ed è e costituirà quello che è la nostra ehm che è il nostro modo di pensare eh lo spazio geometrico e quindi le figure geometriche. Naturalmente eh quello che fu una rivoluzione eh per Francesco Patrizzi la sua nuova geometria ehm oggi è stata superata 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 dal fatto che eh appunto la eh la tridimensionalità stessa nello spazio è superata da da una nuova concezione che consente di poter pensare eh spazi quadridimensionali o con un numero potenzialmente infinito di dimensioni. Certamente una di quelle invenzioni medievali ovvero la raffigurazione eh diciamo su piano ortografica eh delle figure aiuta anche oggi la possibilità di pensare appunto questi eh corpi geometrici solidi geometrici multidimensionali in uno spazio multidimensionale eh i quali sono eh delegati e sono sono comprensibili ai matematici e ai geometri attraverso appunto l'impiego del linguaggio matematico ma sono rappresentabili solamente attraverso le proiezioni ortogonali. Vi ringrazio dell'attenzione e mi scuso se mi sono attardata un po' al rispetto all'ora che avevo previsto. Grazie. Grazie a te per questo intervento chiarissimo anche grazie per le bellissime immagini ovviamente in condizioni normali ci sarebbe un applauso che qui facciamo solo virtualmente e davvero diciamo una presentazione estremamente chiara e delle magnifiche immagini. Eh abbiamo un po' di tempo per qualche domanda eh che pregrei di fare subito e anche in versione sintetica eh per qualche chiarimento qualche osservazione. Eh ho tolto anzitutto scusate io ho tolto la eh la visione delle slide. Sì sì è perfetto adesso ti vediamo bene. Perfetto. C'è qualcuno che vuole fare qualche domanda? Eh. Ah sì ecco Marco Volivesi. Prego Marco. Grazie Luca, Cecilia, grazie mille. Eh sì eh adesso mi sono buttato ma bisognerebbe prima chiarirsi le idee però insomma le suggestioni sono tante e ti ti sottopongo alcune cose che mi vengono in mente. La prima è questa eh l'idea di uno spazio misurabile in Patrizzi se ricordo bene correggetemi tutti se sbaglio perché io non sono un esperto di queste cose viene in fondo da un'idea procleana dall'idea per cui eh l'anima del mondo dispiegandosi costituisce uno spazio tridimensionale. Ora questa idea davvero soltanto nel sedicesimo secolo riemerge prima non ce n'è traccia? No 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 certamente ehm ehm eh 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 certamente eh procro è quest'idea di materia indeterminata eh come luogo all'interno del quale poter porre idealmente le figure geometriche. Certamente c'è eh un'idea una proiezione intellettuale mentale diciamo delle delle forme geometriche. Quello che non c'è eh o perlomeno che Patrizzi sembra definire con precisione è proprio il passaggio dalla dalla scienza della quantità intesa come quantità nella figura alla scienza dello spazio come tale. Quello è un passaggio secondo me significativo e forse questo davvero non c'è nel mondo medievale. Ehm c'è sempre l'idea che comunque la geometria riguarda riguardi ehm con verta su grandezze, su forme, su figure e non sullo spazio come tale. Quindi la questione della distinzione tra dimensiones interminate e dimensiones terminate non ha nel medioevo un effetto per così dire geometrico sulla concessione dello spazio. Non mi sono spiegato tanto bene che lo scusa ma. Ti sei spiegato benissimo. Perlomeno non immediato. Ehm aiuta moltissimo per esempio lo sviluppo di questa idea della spazialità della geometria eh la geometria proiettiva. Quindi la possibilità di rappresentare eh su una superficie piana eh spazi tridimensionali. Aiuta moltissimo naturalmente anche la eh anche le concezioni per esempio dell'infinito che nel quattordicesimo secolo hanno una grandissima discussione. Eh sono appunto elaborazioni ipotetiche degli spazi infiniti, dei mondi infiniti che aiutano moltissimo a pensare lo spazio come tridimensionalità pura ma eh insomma bisogna forse superare davvero la concezione aristotelica del cosmo e e a quel punto davvero si può pensare lo spazio tridimensionale in un modo come dire naturale che prima magari non non c'era. Grazie Sicilia e la seconda cosa mi viene in mente questa ehm tu hai toccato il mondo dei calculatores menzionando bravo ordine e orem però insomma non l'hai non l'hai esplicitato e come si collocano questa gente che faceva questi strani discorsi di carattere logico all'interno di un mondo all'interno del mondo del quadrivio? Avevano a che fare con il mondo del quadrivio oppure semplicemente? Beh insomma il teorema della velocità media mostra che qualche misura la prendevano anche loro cose di questo tipo di nuovo non sono un esperto però insomma siccome quando si parla di calcolazione se si pensa loro avrebbe da dire ma questi che calcolavano cioè avevano padronanza sulle discipline del quadrivio o no? Ecco questa ecco finalmente sono riuscito a fare a formulare nella mia testolina la domanda cioè tra i calcolatori se le disciplina del quadrivio c'è una relazione forte o una relazione debole? La domanda non è facile io direi una relazione forse debole ma perché il quadrivio nel corso del del tredicesimo secolo in qualche modo esplode esplode verso una pluralità di applicazioni che fa sì che la che la che le che le quattro discipline come tali ehm si costituiscono comunque un vanno comunque un quadro di riferimento ehm del delle arti matematiche ma non corrispondono più a una realtà di fatto eh nel caso di Oresm di 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 Bradward in ma prima ancora se vogliamo già eh in 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 grossa testa specialmente negli ultimi trattati eh anche nello stesso con altri autori eh troviamo delle applicazioni cioè la la geometria serve alla fisica serve a dare spiegazioni fisiche quindi siamo proprio in un altro ambito eh io non ho parlato di come si colloca il quadrivio dentro la filosofia ma eh noi abbiamo per esempio ehm qui un 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 importante differenziazione nella nella concezione aristotelica chiaramente la matematica è una disciplina se la fisica eh è una disciplina se eh scientifica ecco eh quindi è dal tredicesimo secolo che la geometria va a fare da supporto per una serie di questioni nell'ambito della fisica ma anche nell'ambito della teologia e lì eh rientriamo eh in contesti che prima forse non erano esplorati o perlomeno non erano esplorati in maniera così sistematica come come questi autori come questi autori fanno quindi mi è è difficile rispondere alla tua domanda che è una domanda molto bella e sarebbe una domanda sulla quale lavorare molto ecco quindi eh grazie a te grazie a te grazie non so se ci sono altre domande eh per quanto mi riguarda io poi devo purtroppo fra i cinque minuti uscire direi anche Gigi altrimenti noi stiamo chiusi dentro ma nulla vieta che eh diciamo il dialogo continui e magari se Gigi trasferisci come organizzatore qualcuno non ci sono poi i problemi se tu abbandoni eh c'è Andrea Fiamma sì allora volevo intanto ringraziare Cecilia per la bella relazione eh devo dire molto chiara e poi soprattutto ecco ci ha restituito un po' la progressione no di queste di queste discipline allora io mi sono occupato di un autore che tutta questa roba la masticava la masticava in maniera non professionale a mio avviso eh però diciamo che nei suoi testi ha ha scritto tantissimo di questi argomenti allora la prima domanda che volevo fare riguarda questo tema che era un po' una delle fisse del cusano cioè la eh la quadratura del cerchio no e volevo capire un po' soprattutto in in virtù di quello che hai ben spiegato sul su questo tema della eh no della della geometria del del ricorso anche a quest'idea proiettiva ecco e volevo capire un po' questa questa tematica come si inquadrava in in quel contesto di studi eh io da quel che ho visto un po' soprattutto così eh leggendo da non specialista gli scritti matematici vedo che lui eh questa tradizione di Brad Wardin in parte anche ora è un po' la conosce però mi sembra che le tematiche in particolar modo questo tema della quadratura del cerchio siano un po' come dire fuori da questa da questa tradizione ecco quindi volevo chiederti un po' un approfondimento su questo e poi se posso una seconda domanda rapidissima ehm un lettore di cusano eh cioè Charles de Bovelle eh poi all'inizio del cinquecento scrive in realtà un testo di geometria pratica e eh curiosamente no perché poi eh diciamo che riprende cusano sui sui temi come dire meno cusaniani però come dire scrive un lavoro di geometria pratica e allora volevo chiederti un po' eh se questa tradizione della geometria pratica avrà uno sviluppo autonomo poi nel cinquecento e seicento come dire anche indipendentemente dal fatto che poi invece la tradizione della geometria euclidea è stata quella vincitrice ecco certo allora sulla seconda domanda sicuramente sì eh quindi eh in un lampo sicuramente sì la geometria pratica ha una molteplicità di applicazioni non ho parlato di abaco non ho parlato dei maestri abacisti e lì sarebbe entrati insomma in un filone di studi eh importantissimi che ci fanno capire tante cose del pensiero geometrico eh dei dei nostri progenitori eh per quanto riguarda cusano eh è la la posizione di cusano è veramente molto particolare il suo contesto fondamentalmente è quello è quello del neoplatonismo se vogliamo e i suoi interessi soprattutto sono eh io mi sono un po' chiesta sono genuinamente eh matematici oppure poi sono fondamentalmente mh teologici e quindi eh la geometria viene utilizzata sì ma come strumento forse per veicolare altri tipi altri interessi eh che non siano quelli strettamente mh geometrici questo non lo so sinceramente non so rispondere in maniera chiara ehm però sicuramente qui cusano ecco l'ho lasciato fuori anche un po' volutamente perché costituisce un caso molto particolare ci sarebbe bisogno di 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 un'indagine un po' più puntuale che ora anche proprio per ragioni di tempo non mi è possibile non mi è possibile dare ma grazie per la domanda perché certamente era assolutamente pertinente insomma grazie 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 a te io non voglio eh quindi credo che ehm Luca Bianchi sia dovuto Luca e Gigi forse eh no Gigi è qua ancora sono qui ancora ma è appunto mi Luca è stato invitato a lasciare la direzione quindi io potrei fare così dato che ho impostato come relatore Andrea ma non credo che questo sia sufficiente potrei a buoni conti interrompere la registrazione per evitare che poi si perda qualcosa e che eventualmente se se voleste andare avanti insomma ci sono Stefano, Diana, Andrea si può fare io ti ti ringrazio tanto peraltro non ho tempo per fare una domanda ma faccio solo una battuta perché io condiviso con Cecilia molti diciamo lavori seminariali su scritti o cuscoli scientifici di grossa testa durante i quali eh una parte considerabile del nostro tempo era passata a cercare di immaginare a proposito di quello che diceva Guri San Vittore quale diagramma quale disegnino fosse presente in margine di un manoscritto eh che non era stato però riportato evidentemente no nel nella tradizione e quindi veniva descritto a parole da grossa testa e noi cercavamo di capire lei soprattutto perché io avevo qualche difficoltà in più che cosa fosse stato disegnato eh ricordo diverse diciamo tentativi no di ricostruire questo e il fatto che pensare matematicamente eh tragga origine da ciò che è rimasto impresso nell'immaginazione ma poi eh richieda uno sforzo appunto di riconfigurazione diagrammatica eh cosa che noi sperimentiamo dai primi dai primi rudimenti nostri di geometria in quella circostanza era emerso con con una certa evidenza eh scusate anche per questo mh la la notazione di Ugo di San Vittore mi sembrava particolarmente interessante perché c'è proprio questo bisogno del raffigurare eh mentalmente ma anche eh fisicamente eh appunto forme eh figure eh per poterne poi trarre una un linguaggio se vogliamo vedo c'è un'altra mano alzata di un anno e saluto con l'occasione anche Clelia che sarà la nostra prossima relatrice e che così si potenta tutti vi saluto scusate ciao ciao Gigi grazie